Flavia Diciamo, me l'ha parlato il mio dentista Mi piacerebbe poter realizzare i miei sogni Poter avere di più Quindi per questo, per darmi una possibilità È molto interessante Mi dà speranza Ho pensato subito ai miei genitori Perché abbiamo visto appunto persone che stanno in pensione E che vogliono avere altre possibilità E poi altre persone a cui voglio bene Perché ho portato mia sorella oggi Però amici e altre persone che potrebbero avere di più nel loro futuro Un sacco di informazioni La speranza ancora più grande È fantastico Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti